Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati sullo Skype Ryzen Insieme ovviamente a Notte purtroppo c'è sempre, ma ci abbiamo una sfida speciale oggi Eccola Meg dove sei finita? Aspetta, lo andiamo a prendere Eccola, eccola, eccola di sopra, ciao Meg Prima ho peso, io me ne vado Perché ti ha, cosa? Che cosa c'ha questo ora? Ha detto che è una cosa brutta che ci sia Che purtroppo c'è sempre lui Ah ok, e questo è vero Allora, qui vabbè c'è sempre qualcun altro Salutiamo tutti i ragazzotti che stanno qua Allora, ce ne vogliamo tornare Sì, torniamocene Torniamoci all'Alprison, esatto Allo spawner del Prison Intanto io mi prendo il mio bel kit, perché non ce l'ho più ovviamente Se non fai una volta i bisogni sono contento Anch'io posso prendere il kit? Ah no, vero cazzo C'è il kit iniziale Ah no, ti dobbiamo pexare youtuber Meg lo devi sciopare il kit Ora scioppo, aspetta un attimo Ok, fatto Ok, ci ho fatto il kit Ok, vai, andiamo Aspetta, fai che gli do la targhetta Vai, dagli la targhetta Anche se dovrebbe fare un video, eh A ricordi logico Però, però, vabbè Con lei possiamo chiudere un occhio Sì, vabbè dai Meg, Meg ce li hai 500 iscritti Allora, senti 500 per 240 penso, non lo so 200 per che cazzo stessi? Cazzo dice Meg Ah, e non so la matematica io Mi spiace, avevo tre a scuola Ah, buono Meg, perché hai mollato la scuola? Cazzo Ma non, perché non avevo free, non avevo free con me Non aveva free, esatto E quindi per questo ho dovuto mollare, quindi niente Adesso però puoi riprendere, no? Esatto Puoi riprendere la scuola che ci siamo conosciuti Ah, Meg from Ypsilon Team Ah, sì, allora Ok, io intanto ti aggiungo la isola Is Ah, vero, vero Ok, ditemi come si Is 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 Oh, dai Meg from YouTube Eccola qua, perfetto Ti ho mandato l'invito Ma dove cazzo sto? Is 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 Perfetto Perfetto Bene Ci siamo Dove siete Scusatemi Questa è l'isola Che ne avevo creato Io sono ancora lo spawn Con la gente che mi fa gli screen a tradimento Allora Vai, vai, vieni qua Ah, più che altro Piccole news veloci che devo dare in merito al server Punto primo Abbiamo aggiunti i mob Non voglio fare gli screen con voi Vieni Nothing, mi servi Vieni qua Ah, ho notato che hai aggiunto i mob Aspetta un attimo Mi sta uccidendo questo tipo C'è un Mr. Creeper qua dietro Bello Ciao Porca droga Non ce l'ha fra abilitata Attento No Aspetta Questo è un coso verdi Ci ho andato d'accordo con i cosi verdi Tu vai d'accordo con i cosi verdi No, io li odio Quei cosi Quali cosi verdi? Eh, eh I cosi verdi Quelli che ti ammazzano Esatto Il Mr. Creeper Così, esatto E lei fa scoppiare i cosi verdi Va bene Allora Allora Infatti è un coso verde Ah, è vero Io sono un coso verde Giustamente, è vero? Guarda qua Sono verde Ok, neanche io ci avevo pensato Devo essere sincero Ok, allora Coincidenze Io non credo Ripartiamo, vai Allora Allora Fermi un attimo Tutti buoni un attimo Che cosa abbiamo aggiunto? I mob? I prestigi? Prestigi, esatto Esatto I prestigi Meg puoi prestigiare No, non puoi prestigiare A parte Meg sei al warp Ma perché? Ti dobbiamo far guadagnare un po' di cash Aspetta È vero, è vero Devi scavare Devi scavare Sì, ma se mi ammazzano Non scaverò mai Ma tu devi scavare le altre miniere Dove non c'è il pvp? Eh, no, no Non ha il pvp Quello è normale Meg from YouTube Te l'ho detto Sui server le ragazze sono Tendenzialmente stronze Quindi sono le prime a morire Vai Meg Cosa? È solo la warp Che bello scavare, raga Ma puoi rankare attualmente Che è ricco E ti ha dato un sacco di cash Ah, grazie Ok È ricco come uno sceglie È ricco perché riceve tante donazioni da tutti gli utenti Ci serve Se no io non ho scavato Hai bisogno Va bene Verso warp C Warp Cazzo Ok Ma perché c'è gente Ma poi no Intorno Quando scavo Posso vendere tutti i minerali Tu puoi vendere tutto Sì Tocca, ninfo Mobarena Ma già già Non ne so Ok Dobbiamo Eh, la mobarena ancora non aveva aperto Tutto il tutto Eh, infatti Sì, sì No, perché l'avevo vista Ecco qua il warp C Inizio a scavare legno Per forza Andiamo Andiamo Scava come dei draghi Come i dragoni Come i dragoni Famosa Non mi rubate il ferro, eh Mi raccomando Perché Ah, che poi No, adesso tu hai A parte potresti poi Avere accesso al kit Tipo Ah, è vero Ah, è vero Prenditi kit e non scavare Ah, è vero Ecco qua Wow Esatto Adesso mi sento forte Oh, bene, bene Ecco, adesso ma il pvp L'ammazzano Cosa, no Ok Sì, dopo un salto al pvp Ce lo dobbiamo fare Perché se io non muoio Due o tre volte a episodio Non sono contento 84 mila Eh, mi dice Tu guadagnate 84 mila Novecento No, sono 84 Sono 84, Perché sono pure millesimi Ma vai Ma no 84 mila Anche io ci ho dato comunque Sono bugie Perché io volevo guadagnare Così tanti soldi Con un solo Un blocco di coal Allora ragazzuoli Tornando a parlare Di cose serie Io qui c'ho un regalo Per Meg Meg Vieni qua Ferma Oh Guarda Guarda Che cosa ti ha portato Wow Direttamente dal Warp G Ah, ho fatto 434 4 euro Wow E' tanto E' tanto Eh, si Eh, si Ma ancora non puoi Ma puoi rancare Io ti ho dato 6.000 euro Che c'hai fatto E' 700 Eh, l'ho rancato Fino alla rank C Hai rancato fino al rank C Ok Comunque mi servono Un altro Settecento dollar Per fare rank D A noi ce ne servono Ci servono tipo 75k No, no, noi non ce la facciamo Non ranchiamo più No, noi io non rancho più Resta la G per sempre Ok, perfetto Ma è grato Vai, ranchiamo Perfetto Pensare alla gente che arriva la H Tranquillamente Ah, warp rank D D esatto Adesso warp D Che fa Allora Già la E è un po' meglio La D non c'è l'oro Giusto? Eh, no Non c'è Niente oro C'è una vita Però almeno qui c'è Allora Not Hablame Hablame Spiegami come si fanno i trade Allora Attenzione Altra cosa che abbiamo aggiunto Cabrom Cabrom Sì, però qua c'è Struttura di coglioni Ah, Fri, facciamo una bella roba Tu ti metti la fly Voli E vai su quell'isoletta Va bene Va bene Va bene Wow Dove Qual'isoletta? Perché non posso vendere l'oro? Come no? Perché Eh, l'oro Il ferro Ah, perché lo devi smeltare Ma come? Come si fa? Eh, lo devi cuocere No Hai ricevuto mai? Allora No Allora, shift e clic destro E ti ho inviato la richiesta di trade Esatto Adesso di fare tipo trade accept No, lo ho vedo Trade Accept Ah, eccola qua Guardate, basta che Accetta Eccola qua Ok Adesso ti si apre sto pannellino molto carino Ok Allora, io adesso ti posso fare un'offerta in money In XP E poi ti posso barattare anche degli oggetti Vedo Ad esempio Io ti posso barattare sto piccone qua Io ti do due pezzi di pane Tu mi dai due pezzi di pane Se vuoi accettarli Cioè, se vuoi accettarli Sì Cliccare sulla barra rossa dalla mia parte in pratica, no? Attendi che la Ok Esatto Vai, accetta Sì Poi se io sono d'accordo Clicco di qua Accetto Ah, ok Accetto offerta Accetto Accetto anche tu Ah, no Eh, la devo cliccare io sulla mia Tu sulla tua Ok, quindi Ah, ok Molto molto bene Capito Ragazzoni Eh, mi ha dato il pane E a te Mi ha dato il piccone Me l'ho buttato Ok C'è il piccone indiale Adesso Facciamo PvP Che voglio vedere Meg come se la cava col PvP Ah, vero Eh, ho fatto proprio un chifo Che poi posso volare Devo togliermi la fly Che se no non è il gusto Come posso fare a cuocere? Ah, ecco Ma l'è evitata nell'isola Sì, sì, sì L'ho portata nell'isola Come no? Andiamo a warp PvP Sì, ti sto aspettando Sono sul bordo Oh, invece ho una polvere da sparo Adesso faccio la prima cosa che facciamo nel prossimo episodio No, no È il mob spawner Ma aspetta Ma io ho troppo ferro Come lo posso? Mob spawner, eh, è vero Ma devi scioparlo il mob spawner No, no Ti faccio lo spawn Te lo costruisco Io cazzo sono caduto dentro Eh, caldo Io lo sapevo Via, via Uccidiamo No, perché mi iniziano a menare tutti? Porca miseria Che urto di nervi Ah, ci siano Che arrivano senza armature Pensano di fare Esatto Eccomi, eccomi, eccomi Abbiamo monopolizzato il server Guardala Mangiare un compagnolo Wow Uccidi tutti Vai, vai Ah, qui è vero Che si piglia anche l'oro Si prende anche l'oro Esatto Esatto Me lo guido io Eh, Meg piglia tutto Allora Meg prende tutto Meg prende tutto È tutto tutto così Ma che palle Abbiamo massacrato Sto video Ma io Io rivoglio Io rivoglio Ma anche nei miei video No, no Basta Io con te Non farò più video Torno a fare le video Torni a fare le video Allora Io vi vorrei dire Che ho già trovato Un paio di diamanti Adesso ritorno So che il mio apporto Ma c'è un aspetto di fuoco pure Ma aiuto, raga C'è un sacco di gente Ma sono sciopponi questi No, ma non possono essere Sciopponi No, che cazzo Come scioppano Menchia C'è un aspetto di fuoco Cazzo Ma perché incantano Eh, ho capito Ma per incantare Devi avere un sacco di money No, no Ma se l'esperienza Incanti normalmente Not Nothing, nothing Puoi farlo L'abbiamo disabilitato Guardami 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 Ho preso una pettorina in diamante Se volete Sono incantata Guardate Eh, lo so È l'effetto che faccio Su molte ragazze Eh Oh, non mi picchiate Per favore Ma lo vedi Che cazzo di spade c'hanno Ma lui c'aveva una spada in piedra Ma è Pinuzzo Eccolo Wow Guardate quanta roba La stessa gente Che viene a farci Ammazzare Cazzo Ma voglio anch'io Perché io non piglio me niente Aia, aia Prima prendi tutto Poi non pigliamo un cazzo Allora decidi Ho preso un sacco di roba Guardate Madonna C'ho anche l'ender pearl Sono un drago Un'accetta Intanto facciamo Slash Sail All Ok Io non posso farlo Perché ho troppo Aia Oh, oh, oh Adesso Ragazzo Oh, Pinuzzo si lamenterà un botto Che gli ho massacrato la famiglia Però va bene uguale Levat No, ma Pinuzzo si è messo in botto Levati Con te, con te, vai Eccolo, eccolo Di te, vai Ho tre cuori Ho tre cuori Sì, sì Lo sto picchiando io Lo sto picchiando io Lo sto picchiando io Vai, vai Ficca Ecco mi sta fottendo Mi sta fottendo Mi sta fottendo Vai Ti mangio la mela d'oro Bravo, grande Dov'è? Ma che fai, Notting? C'ho un cuore e mezzo Porca troia Dimmi, muori Ah, Notting, che sei tu Sono io Sta fermo Sta per morire Cavolo, no Sono morto Ma sai Morto, free Non ci si crede Dove sei, dove sei E io non ce l'ho più niente Ormai sono diventato povero Al cento per cento Ciao, no Ah, ok Sono sceso, eh Ok, scendiamo Sono sceso Provo a riprendermi qualche cosa Se voi uccidete quello Se la sono squagliata No, ce ne sono due Scendi, scendi, Meg Aiutami Eh, aiuto, che cosa? Vai, vai, vai Ho preso una spada di pietra Posso venirvi a dare una mano Se li trovo Ma come sono riuscito a scappare? Mannaggia Ma come sono riuscito a scappare? Oddio, oddio Non mi chiedate Sono io Allora, sentite Se ci ammazziamo noi E poi è la fine No, no, niente No, no, no Niente è fine Eh, è finita Ma come hanno fatto a scappare? Eh, è finito Tipati Aia, aia, aia Aia, aia Oh, che che mi sta a menare Che che mi piccia? Raga, raga, sto morendo Raga Sì, c'è un full diamond C'è un full diamond C'è un full diamond Sì, ma mi ha buttato giù i cuori In una maniera tremenda Bacca puttana sto mo... Purtroppo Non ho registrato la parte finale Dell'outro E con tutti i saluti Comunque ve la faccio io ragazzoli Per questo video A tutti i ragazzi E se volete lasciare un mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto di condividere Le video su Facebook E fammi uscire una versione Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione di Noting E di Meg Che trovate ovviamente In descrizione Trovate l'IP del server In descrizione Instagram, Facebook Insomma tutti i link Fatevi un salto Diciamo come al solito A un prossimo video Mi raccomando Ve la mi piace Ciao a tutti ragazzi